Beh, non disponiamo di indizi rilevanti, ma questo non ha mai rappresentato un ostacolo per noi. Non ci sono altri poliziotti, ma una cosa è certa, che il ragazzo è stato assassinato. Assassinato? Ti potrebbe volere la morte di un campeggiatore. Non guardate me, sono qui solo per lasciare mio figlio. Justin? Justin, così mi metti in difficoltà. Probabilmente è una roba fetisce, tipica di certi criminali, come la mania per l'ordine dei banditi della rapina alla banca di COAG l'anno scorso. Ok, mani in alto, verticali, le braccia parallele l'una all'altra. Tu, riempi il sacco di banconote che non siano segnate, ma prima sistema il blocnotes in modo che formi un angolo retto con il ripiano. Batti quella pila di ricevute sulla superficie piana, in modo che non ci sia nessun foglio che sporca. Anzi, al diavolo i soldi, prendete tutti una scopa, sistemiamo questo posto. Sì, dagli una chance, Joe, come feci io con i bulli del quartiere. Avevo paura di loro, finché non ho capito che erano solo degli incompresi. Ehi, palla di l'arto, dammi il portafogli. Posso anche darti il mio portafogli, ma quello che secondo me vuoi veramente è l'amore. È vero. E mi prendo le tue scarpe. Ok, campeggiatori, finché lo strangolatore non sarà stato catturato, siete tutti confinati nelle vostre camerate. Ora farò una conta degli stomaci. Quando chiamerò il vostro nome, prego, rispondete. Jenkins? Robertson? Davis? Elliot? Dai, forza, muoviamoci! No, aspetta, è l'incursione da fare nel dormitorio femminile! Missione compiuta, mutandoni! Oh no, un refolo di vento! Beh, Patrick, credo proprio che ti dobbiamo tutti delle scuse. Patrick? Dov'è andato? Era qui con noi adesso, cos'è successo? Dannazione, ho preso il largo! Ma come è possibile? Non lo so, ma meglio far credere a una colluttazione. Qualcuno mi colpisca in faccia! Puoi sempre contare su di me. Ok, occhi aperti, computer, è altamente competitivo in queste faccende. Sì, sembra adattarsi fisicamente alla perfezione in questo spazio. Sì, è come se avesse delle capacità straordinarie quando giochiamo a spara laser. Ok, forse se restiamo uniti riusciamo... Zap, zap, zap! E cosa? Oh no! Wow, la mia foto su un giornale. Non ce l'ho avuta neanche quando ho messo un micetto insieme a quel gorilla. Eh? Che cosa ti dicevo, Lois? Oh, è bellissimo, Peter. Si prende cura del micetto come se fosse il suo cucciolo. Sì, sapevo che alla fine avrebbe smesso di spezzarli a metà. Oh, per favore, Brian, siete soltanto due che vivono nella stessa casa, altrimenti non vi frequentereste neanche in un milione di anni. Lui è il tuo padrone, sei una sua proprietà. Ti appendeva nel garage per non sbattere col parafango sul muro. Sei arrivato! Sei arrivato! Non ti sentivo, la radio era troppo alta. Menti a te stesso! Come le ragazze che insistono a dire che le loro migliori amiche sono attraenti. Oh, Stewie, non vedo l'ora di presentarti la mia migliore amica, è così graziosa! A sentirti è favolosa. Oh mio Dio, sì, la gente le chiede continuamente se è una modella. Eccola che arriva! Ok, ok, ho estremizzato, ragazze. Però ammettetelo, le vostre migliori amiche non sono favolose. Ehi! Grazie a Dio c'è qualcun altro qui. Voi due sembrate essere gli unici in questo ospedale. No, ci sono anch'io. Qualcuno di voi sa cosa è successo? Io mi sono svegliato in una di queste stanze. Non ho la minima idea di come ci sono arrivato, non so nemmeno chi diavolo sono. Tutto quello che so è che devo essere uno molto importante, perché ci sono immagini di me su tutte le porte del bagno. Visto? Eppure è incollato alla parete, quindi sono più che sicuro che sia permanente. Beh, quando trovo quel tipo lo strangolo con le mie mani. Avevo una vita e lui me l'ha strappata. Non me la ricordo, ma scommetto che era piuttosto bella. Sì, pure la mia. Scommetto che era un medico che aveva a che fare con un mucchio di cose serie, ma che sapeva come alleviare il dolore. Oh mio Dio, guardala, è bellissima! Sì, non è vero? Non è la sua. La sua è morta. Ho fatto popò su questo prato. Deve essere qui che abito. Ehi, camicia pantaloni, vieni qui. Oh mio Dio! Lo so, lo so, sei il mio padrone. Lo sapevo che eravamo amici. Sì, insomma, non ci sono foto di me, ma vedo che hai un collare e un guinzaglio. E guarda quanto è grande la tua gabbia per cani, ci può stare una persona. Si vede che sei un bravo padrone. Oh mio Dio! È stato lui! È sua la colpa! Che cosa facciamo? Guardate qua, il reggiseno di quella fricchettona, ora me lo metto. Eh, in effetti mi sta piuttosto bene. Aspettate, c'è il nome. È mio. Quindi eravamo comunque destinati a diventare amici. Penso proprio di sì, esatto. E loro si ricorderanno qualcosa di questo? No, cancellerò questa giornata, come se non fosse mai esistita. Però, è loro che ci fanno laggiù? Oh, volevo vedere come reagivano tre donne nella stessa situazione. Vieni qui, stai ruttando il testo, stai ruttando, faccio vedere io! Sono state lì solo tre minuti e ancora non hanno neanche provato a scoprire come si chiamano. Non sono state lì solo. 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 Vieni qui, stai ruttando. È comunque il che si tratta.